TecnoService a Cava dei Tirreni fornisce servizi di consulenza, vendite e assistenza per caldaie a gas plurimarche, impianti di climatizzazione, pompe di calore, sistemi ibridi ed impianti solare termico. Vieni a trovarci a Cava dei Tirreni, invia bene in casa 15. Gli agenti della Polizia di Stato di Cava dei Tirreni, diretti dal Vicequestore Gianluca Perillo, hanno tratto in arresto nei giorni scorsi con l'accusa di rapina gravata Gennaro De Simone, 21enne originario di Torre Annunziata. Il giovane, in compagnia di un complice, attualmente non ancora identificato, aveva fatto irruzione con un volto travisato da un casco integrale il 19 luglio 2023 all'interno della farmacia Curcio di Cava dei Tirreni, sita nella frazione di San Giuseppe Alpozzo, puntando una pistola nei confronti del farmacista di turno e scappando con un bottino di 1.500 euro. Le indagini eseguite dai poliziotti cavesi, in collaborazione con gli agenti della Polizia scientifica, hanno portato all'identificazione e all'arresto di uno dei rapinatori, autori della rapina all'interno della farmacia. Nello specifico, la rapina avvenne intorno alle 21, quando due rapinatori con volto coperto da casco integrale, fece l'irruzione all'interno dell'attività commerciale, chiudendo prima la figlia del titolare dell'attività e un cliente all'interno di un ripostiglio, e poi minacciando con una pistola il farmacista di turno, che consegnò ai malviventi 1.500 euro. I due ladri, dopo la rapina, fuggirono via dalla città metelliana a bordo di una moto di grossa cilindrata. L'arresto del 21enne Gennaro De Simone è stato possibile in seguito ad una lunga attività info-investigativa, in cui gli agenti hanno visionato le telecamere di videosorveglianza, presenti all'interno della farmacia Curcio, e analizzato le impronte digitali lasciate dai malviventi durante la rapina. Continuano le indagini degli agenti del commissariato di Cava dei Tirreni per individuare e arrestare il complice della rapina.